Una scuola costruita male, quella della media zippilli, che in caso di sisma poteva avere seri e preoccupanti problemi. Grazie ai lavori in fase di conclusione però, il peggio è stato scongiurato. Chi costruì quella scuola lo fece male. Una parte del mando di copertura appoggiava su un muro portante, dove al piano sottostante mancava il muro portante. Dunque, era una carenza strutturale notevole, per fortuna che questo edificio, essendo di muratura, ha resistito nel tempo, però era una situazione critica che abbiamo sanato con questo intervento strutturale che abbiamo fatto sulla zippilli. Cioè poteva venire giù la scuola? La scuola non poteva, però era una situazione grave di pericolo perché era stata dal punto di vista tecnico fatta in maniera totalmente impropria e con grosse carenze strutturali, cioè con qualche scossa di terremoto di elevato grado, poteva anche succedere la catastrofe. La conclusione dei lavori della palestra è in fase di completamento. Questi lavori che vedete qui dalle riprese, praticamente di miglioramento sismico, è stato fatto su tutto l'edificio della scuola Zippilli, con il rinforzo di tutte le pareti strutturali della scuola, dal piano seminderrato fino all'ultimo piano. Dunque è stata fatta un'opera consistente a livello strutturale che ci permetterà di adeguare dal punto di vista sismico, oltre all'impianto elettrico e l'antingenio che abbiamo già fatto, l'intero edificio scolastico. Per quanto riguarda la palestra, che è l'unico intervento a servizio dei ragazzi che manca, bisogna un attimino spicconare tutto l'intonico delle due testate della palestra e rinforzare le pareti corte della palestra. Dunque è un intervento anche qui strutturale che permetterà di mettere a norma completamente la palestra, oltre alle uscite di sicurezza che sono state migliorate e allargate per permettere eventuali deflussi per i ragazzi. Intanto è rinata anche la palestra della Scuola San Giuseppe.